I ragazzi che vengono qui hanno proprio quella fame, la motivazione e quel sogno. In superlite storico stiamo facendo una cosa assurda a Napoli. Se non lo so vuol dire che non c'è cultura del rap napoletano. Se vedo la pigrizia, vado fuori di testa. Uno deve vincere, uno deve perdere. So quanto sia duro far musica. Toccherà smontare il sogno di molti di loro. La ricerca del suono, l'identità. 100k per cambiare la vita di chi si dimostra all'altezza. Grazie a tutti.